Chiude il sipario sul Volleyball World Beach Pro Tour 2023 di Messina, successo italiano al femminile e splendida cornice di pubblico. La finale per la medaglia d'oro femminile parlava solo italiano. A contendersela sono state le coppie Bianchin-Scampoli e Orsito-Reca-Bianchi. Il primo posto è andato a Bianchin e Scampoli che sin dalle fasi di qualificazione hanno mostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre atlete. Probabilmente Reca e Bianchi hanno pagato lo scotto di aver formato la coppia proprio in occasione della tappa messinese. La finale maschile invece ha visto di fronte gli atleti argentini Amieva-Aviero contro quelli austriaci Znetzer-Petuschking, due squadre veramente forti che hanno messo in evidenza una preparazione tecnico-atletica superiore a tutti gli altri. Una partita che la compagine argentina ha condotto sin dall'inizio lasciando agli austriaci poco spazio. Hanno fatto registrare tante presenze sia di turisti che di messinesi che hanno gremito Piazza Duomo. Altro elemento non trascurabile è la soddisfazione delle attività commerciali che quasi tutti i giorni hanno registrato sold out. L'organizzazione è stata spettacolare perché appunto ci ha portato anche a fare queste gite culturali che solitamente non facciamo, quindi è stato super apprezzato questo gesto da parte del comune di Messina che ci ha portato su al Campanile e a Punta Faro a vedere una bellissima spiaggia e al museo storico, quindi abbiamo trovato anche il momento per visitare una città che solitamente non è facile, ma sono stati un'organizzazione fantastica, hanno fatto in modo che noi riuscissimo a fare anche questo, quindi siamo super contenti di questo.